ciao ragazzi siamo qua su minecraft e oggi facciamo una bella cosetta allora lo vedrete lo smistamento cesti comunque allora me serve ho già preparato un paio la robetta qua adesso allora dovremmo fare questo qua allora prima di tutto bisogna fare allora a lui questi qua questi qua questi qua questi qua si fa silva l'or più la nicolita ce l'ho qua e silva l'or più essere questo qua si mi ha indotto adesso fa così così e non vi un cazzo che va a cuoto come va a cuoto sta roba no va a cuoto questo si allora meno male che ho fatto questo qua ciao metà all'orso adesso 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 per un poco da redstone ok e si aspettiamo che ci sentiamo quando ha finito di cuocere a dopo leggoci voi ragazzi ho fatto intanto 6 per far vedere come funziona si mette così si 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 no si fa così comunque comunque basta un po' tutta vogliana 5 sole vediamo qua non c'è niente ma vabbè dov'altro c'è niente quindi adesso spero che basti lansi ok facciamo questa 5 qua intanto 3 4 5 6 Ne abbiamo 12 che ci servirà dopo. Facciamo anche altri. Abbiamo 24 che ci serviranno. Qua è ancora più che il cuocino. Ok. Adesso noi dovremmo fare anche... dove sta? Chissà se la trovo. Qua non c'è. Non c'è, non c'è. Ma appena la trovo ci sentiamo. Eccoci qua, l'ho trovata. C'è la battery box. Ci servono due di questi. Si fa quella nicolite, due copper e un ferro. E ci servono quattro. Se le facciamo. Le abbiamo usate il cuocino. Spago questo, si? No, scemo snotto. Spago questo. E vieni, guarda, grazie. Allora. Intanto così. Poi... serve. Lo accopero. E un... Allora. T... ci si sa quattro. Cinque. Scopero uno, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ok. Adesso facciamo due batterie. Adesso dobbiamo prendere altre nicolite. Dove? Eccola qua. abbiamo adesso a nicolino abbiamo quattro due ok abbiamo quattro batterie si va a posto adesso ancora ci serve altro legno lingotto 3 lingotto e farlo e un blu lingotto allora questo qua si zza 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 no dove farlo che dovrei averlo è solo uno no un problema andiamo qua due e questa tre ok qua ci sono tre così dopo mi ci va le batterie vai tre quattro e uno del legno che non ce l'ha ancora qua anzi usa questo che è solo soledà e abbiamo la batterie box adesso mi ci vuole allora ci vuole questi palleli solati allora posso fare con la silver roof tranquillita ok allora allora ok il carbone qua e poi ci serve cosa ti serve questi uomini carbone e sabbia ok la sabbia dovrei avvarla anche quelle qua carbone qua e sabbia e svegliamo ci sentiamo quando sarà fatto ma dopo eccoci qua ragazzi 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 eccoci qua se posso fare quella sega diamante e diamante e diamante e diamante questi silver wall blu 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 bl Allora, per fare sempre i pannelli solari, pan, sa, solar, pan, qui qua, poi la nicolita, adesso è qua c'è, adesso andiamo qui, nicolita, facciamo solo qui, inserirci, basta avanza, mi serve, in realtà è nicolita però, che non mi basteranno, nicolita questo, e 16 questi, anche se ne bastava 8 però va bene, quando saranno cotti, premerò, a dopo, ed eccoci qua ragazzi, adesso facciamo almeno, due pannelli solari, se no, facciamo fino a domani, gli altri farò io, off camera, e questi sono fatti i pannelli piatti, facciamo due palmente, questo, 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 poi, ci servirebbe, allora, vediamo un pochetto dove possiamo fare le ceste, sono facile, grazie, allora, qualità metto a fare qua, le ceste qua, a me c'è anche il filtro però, adesso pensavo, adesso mi serve anche, un'altra cosetta, e la qua, filta, come si fa, allora, pietrisco, un pistone, due oli, è un red power, come si fa, questo, così, come si fa, con la redstone, stop, un momento, sta roba, ecco il tema, a parte, apriamo la redstone, la prendiamo, quanti mi servivano, una sola, ok, questo è fatto, adesso rimettiamo, la nostra nicolita, tranquillamente, a fare altri, adesso, adesso, un pistone, che vorrei già averlo, allora, ecco qua, un pistone, qua, poi ci serviva, due oli, e vai, ok, ecco, due oli, questo qua, poi il pistone, va, non, ecco qua, qua, poi ci serviva, e, pietrisco, scusca, scusca, non, che non ho, vediamo qua, ok, ecco qua, no, ecco qua, abbiamo il filtro, questo qua, sta andando a posto, ok, adesso, si va in legno, per fare altro cesto, ok, non, ecco qua, 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 ecco qua ok adesso questo qua ci hanno già fatto uno eccola adesso va via 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 bravo stai lì adesso mi servirebbe facciamo a mano ci facciamo a mano abbiamo detto ma siamo qua ok ci piazzichiamo per il momento questi due bannelli pannellini An, e vai! Quanto va qua! Allora! Quanto va qua! Ok! Sto moving! Qua, qua! Qua! Ecco la nostra batbox qua! Sto caricando? Ok! Adesso! Allora! Ah, dove favo? Eh, mi dimentico sempre a pezzi! Eccoci qua ragazzi! Mi dimenticavo che mi serve anche a shorting machine! Spago! Allora! Filtro! Allora! Filtro! Due di questi! Ferro! Ne vado a prendere anche quell'altra qua! Mi dimenticavo qua! Lo sta qua! E' uno del questo qua! E facciamo la shorting machine! Ok! Adesso! Scusa piccolino! Vieni qua! Vieni qua! Bravo! Sposto! Manualmente! Ok! Adesso! Due casse piazzchiamo! Così! No! Che sembra là! Che sembra là! Pffff! Pfff! 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 Oggi! Questo è finito! Pfff! 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 una quadrita cazzo è un quadrita no poi è strana sta cesta almeno qua vediamo sto cesto qua io mi piace a piazzigalli raggi mi piace sta così vabbè però facciamo una dopo le materiali e adesso adesso metto questa qua che non va così ovviamente siamo un'ottima e quanta roba si è roba che ok o che male vabbè vabbè stai qua le piace stare come voglia vabbè ci vediamo la prossima puntata per che finiamo il sviluppamento cesto ciao